Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Eccoci al nostro angolo classico della finale del campionato italiano di rugby. Come sapete adoro questo sport, l'ho seguito anche un po' con il canale all'inizio stagione e poi purtroppo non sono riuscito a dare seguito, ho continuato a seguirlo ma senza fare i video delle partite. Ieri sera la finale Scudetto, la classica Padova contro Rovigo, in diretta anche su Rai 2 e quindi grande possibilità di avere anche più spettatori del normale, una partita classica da campionato italiano ovvero questo rugby che piace a me, combattuto fisico, pieno di battaglie e non il rugby champagne con le mete senza difese come potrebbe essere una partita per esempio di super rugby, ha vinto Rovigo, ha vinto per 16 a 9 e diventa campione d'Italia. Al termine come detto di una partita molto avvincente, giocata nel primo tempo credo anche piuttosto bene da un punto di vista anche spettacolare per un pubblico diciamo non da battaglia di trincea c'è stata anche qualche giocata in più. Il secondo tempo viceversa un po' la stanchezza, un po' gli errori, la mancanza di disciplina, i calci di punizione hanno spezzettato molto il gioco, lo hanno rallentato però hanno visto soprattutto la difesa di Rovigo impedire completamente a Padova di riuscire a venire a capo della situazione di rimontare. Rovigo ha controllato il punteggio all'intervallo e era in vantaggio per 10 a 9 nel secondo tempo Padova non è riuscita a segnare. Una Padova che ha sbattuto contro il tentativo disperato di cercare di segnare una meta la partita ha avuto una sola meta in totale, quella di stabile quella che alla fine si è rivelata decisiva a metà del primo tempo ma Padova sia in chiusura di primo tempo sia per tutto il secondo tempo ha cercato di segnare la meta ma la difesa di Rovigo è stata precisa ha respinto ogni tentativo d'attacco credo che proprio lì sia la ragione della sconfitta per Petrarca perché troppi calci piazzabili sono stati invece si è rinunciato a troppi calci piazzabili per andare in tush per attaccare da più vicino, cercare di mettere una meta ma invece la difesa di Rovigo ha sempre respinto tutto e Padova così non ha marcato tanti punti piuttosto facili un paio di situazioni erano calci anche relativamente semplici soprattutto poi sei l'ail non dovrebbe essere difficile centrare i padri viceversa Rovigo ha giocato con molta più disciplina è andato un pochino sotto con la mischia in chiusura di primo tempo quando Svenipul è stato sostituito da Pomaro e lì sembrava Petrarca prendere in mano questo fondamentale poi però nella ripresa mi sembra che Rovigo sia riuscito anche dal punto di vista delle mischia a tenere piuttosto bene soprattutto tantissimi errori di gestualità del Petrarca che ha compiuto tantissimi in avanti dei 22 avversari quando mancavano veramente solo gli ultimi appoggi le ultime possibilità prima di riuscire ad andare a segnare lo scudetto di Rovigo è meritatissimo credo che abbia vinto questa gara con grandissima voglia con grandissima volontà l'allenatore Lodi arrivato dopo la confusione di inizio stagione quando l'allenatore Cozzia aveva lasciato un po' in difficoltà il gruppo e a sorpresa Rovigo è stata bravissima a rimettersi insieme a raggrupparsi sul nuovo progetto e a portare a casa questa vittoria casalinga questa vittoria di cuore una vittoria ottenuta con quelle che sono le armi classiche di questa squadra per quanto riguarda la partita in sé io ve l'ho detto prima adoro questo tipo di rugby è il terzo anno che ho il canale il terzo anno che seguo queste finali scudetto infinite ormai due anni fa ci fu la partita decisa con la meta all'ultimo secondo due anni fa l'anno scorso invece Petrarca vinse piuttosto bene una partita controllandola anche quasi facilmente oggi questa bella diciamo di queste tre partite invece Rovigo l'ha vinta con davvero tanto animo il migliore in campo per me rimane stato Montemauri che ha giocato una partita veramente di grandissima intelligenza molto bravo con i calci il gioco non ci sono state molte fasi molte volte si andava al piede si metteva sotto pressione la difesa avversaria ripeto non è il super rugby dell'emisfero sud quindi anche diciamo il progetto di far innamorare più gente del rugby o incuriosire più gente del rugby vedendo la partita di ieri uno che magari può aver fatto fatica a capire lo sviluppo del gioco magari la partita facile con 20 mete e nessuna difficoltà sarebbe potuta piacere di più ma io invece al contrario trovo che proprio qui proprio in questa battaglia ci sia stato molto di più da vedere e sia stato molto più divertente e spero che persone magari che non abbiano mai avuto visto partite di rugby si possano essere appassionate certo rimane che poi un po' troppi gli errori del secondo tempo questo sicuramente ma questo fa parte anche di quel 1 l'agonismo che c'era e quindi la tensione della posta in gioco e 2 davvero tanti errori anche un po' tecnici alcuni anche piuttosto gravi Montemauri il mio MVP però bravissimo stabile al di là della meta decisiva la terza linea di Rovigo in particolare mi è piaciuto molto anche Casado Sandri ha giocato una buonissima partita bene Varrinen molto solido dietro nei centri Killon ho trovato una partita molto positiva ma soprattutto quando poi è entrato Bazan Vélez al posto suo per la parte finale di gara è stato molto bravo Killon mi piace molto di più ma Bazan ha fatto tante belle cose che hanno permesso di tenere il ritmo nelle mani di Rovigo nel finale e poi ho trovato un partitone anche da parte di Quaglio in mischia una mischia di Rovigo che ha saputo tante volte tenere botta in momenti anche complicati per quanto riguarda Padova Lyle molto bene De Masi che però ha preso una botta tremenda quando con un placaggio ha fermato un giocatore di Rovigo sulla trequarta inizio della ripresa è dovuto uscire in barella ma era un giocatore di grandissima forza fisica niente male anche la prova di Tebaldi anche lui bello il duello Tebaldi Killon personalmente mi è piaciuto e poi ho trovato positiva la prova di Panozzo male Faiva che è partito subito sbagliando il primo calcio e da lì più o meno non si è più ripreso ho trovato Trotta solitamente uno dei giocatori migliori di Padova un po' troppo nervoso una partita che mi piace sottolineare ha avuto zero cartellini gialli e zero utilizzo del TMO quindi come rugby di una volta però d'altra parte bisogna notare anche che i giocatori parlano un po' troppo tipo calcio però mi è piaciuto come ha gestito Gniecchi dando un calcio di punizione contro per parte con i 10 metri per la gente che protestava e secondariamente va notato però una cosa che invece mi è piaciuta di meno mi è sembrato che in alcuni casi i giocatori tipo sfottò qualcosa un Cini in questo l'ho visto un po' protagonista gesti cose che da questo punto di vista non mi piacciono perché dobbiamo preservare il rugby è uno sport pulito bello e veramente certi valori non vanno persi però questo è quello che mi è sembrato di vedere della televisione qualche palla persa nel finale i cambi di Padova credo non siano riusciti a dare il cambio di ritmo che era necessario Rovigo quindi è campione d'Italia chi segue il mio canale sa che ho un debole per Rovigo che nasce ancora dalla mia gioventù quando mio papà mi portava a vedere la Colle Uganei e sono stato più volte ho festeggiato di scudetti quelli contro la Benetton quando c'era Botta c'era Smal per cui mi fa piacere diciamo che abbia vinto Rovigo però è stata una bellissima partita grazie ragazzi iscrivetevi al canale seguiremo tanto il rugby se avvicinano i mondiali lo voglio provare a rintrodurre nel canale perché quando lo vedo penso che il sport più bello di questo sia veramente difficile trovarlo ciao a tutti grazie un bacio e un abbraccio da Logs ciao ciao